Roma, ha lasciato il segno anche nel 6 gennaio con cui la Lazio ha travolto il Sassuolo. Ciro Immobile si è portato a nove reti in campionato, a solo una da Paolo Di Bala, a secco nella gara della Juve contro l'Atalanta. Dunque il bomber della Lazio si candida, come principale e sfidante dell'Argentino nelle scommesse sul capocannoniere della Serie A. Sul tabellone Microgame di Bala resta favorito, a 3.30, mentre la quota di Immobile va giù fino a 4.25. Scavalcati in un sol colpo sia Icardi, sei gol per lui, che Zeko, a sette marcature, entrambi a 5.50. Nella zona calda della lavagna scommesse anche Dries Mertens, sette reti anche per lui, dato a 5.00, mentre è più distante Gonzalo Iguain. Che con tre reti fino a qui è piazzato a 8.50. Grazie a tutti.